Alessandro Piana è consigliere regionale, capogruppo della Lega Nord in regione e ha lavorato a stretto contatto con l'assessore Rixi per giungere a questo risultato, per del resto insomma va all'impero territorio nel quale gioca in casa, che cosa significherà in concreto per chi vive in questa valla? Ma noi auspichiamo che un provvedimento di giunta di questa entità e di questo genere comporti una serie di facilitazioni per quanto concerne fare impresa in queste valli, non dimentichiamo che sono state individuate tre valli fondamentali dove c'è un grosso sviluppo industriale, in primis la Valle Impero, la Valle Arroscia e una parte dalla Val Prino. Credo che oggi come oggi ritenere che queste aree vengano classificate come aree di crisi non complessa comporti appunto una serie di agevolazioni che poi il Ministero dovrà fare tramite bandi per chi vorrà investire e per chi ha già investito sul nostro territorio. È anche possibile che ci sia una politica di defiscalizzazione per chi appunto vuole continuare a investire e vuole continuare a fare imprese su questi territori. Assessore Rixi, qui a Ponte d'Assio, Palazzo Comunale, per una notizia che riguarda non solo Ponte d'Assio, ma la Valle Impero, parte di quella Arroscia, anche la Val Prino, per quello che riguarda il territorio imperiese, aree di crisi non complessa. Che cosa significherà in soldoni per questi territori? Si tratta di una richiesta che ha fatto Regione Liguria, ha mandato al Ministero, che ci risponderà penso nel giro di una settimana, dove seguendo l'iter di un precedente decreto ministeriale abbiamo perimetrato quest'area come area che si possa utilizzare per quelle misure che sono previste nelle aree di crisi industriale non complesse. Saranno dei bandi a livello nazionale in cui le imprese potranno partecipare, ci sono delle cooperazioni anche a livello regionale. Diciamo che nel 2017 dovrebbero nascere i primi bandi finanziari, adesso si parla da parte del Governo di mettere su questi bandi alcune di centinaia di milioni di euro a livello nazionale, quindi noi pensiamo che questo territorio possa essere un territorio capace di portare delle risorse e essere competitivo rispetto ad altre regioni su questo tipo di giro di bandi. Significa recuperare il gap del passato, superare una parte della crisi, ma anche e soprattutto riportare le persone su un territorio a rischio di spopolamento? Assolutamente sì, in particolare noi sappiamo che l'area industriale dell'imperiese si è spostata nell'entroterra soprattutto lungo la statale 28, quindi abbiamo parametrato quest'area rispetto alla presenza di attività industriali ma anche di imprese in senso lato e quindi di tutte quelle attività che oggi rappresentano un'eccellenza della provincia d'Imperia e che secondo noi devono essere aiutate a superare questo momento di difficoltà dovuta alla crisi economica.